Rimanendo in tema, l'astronauta italiano Luca Parmitano racconta la sua esperienza nello spazio, poi l'incontro con il Presidente della Repubblica, Napolitano, Marilu Lucrezio. Viene accolto con un lungo applauso Luca Parmitano, è tornato in Italia e racconta i suoi sei mesi a bordo della stazione orbitante, parla nella serie dell'Agenzia Spaziale e ricorda quei momenti terribili. In quell'occasione, anziché ricevere aria dal ciclo di ventilazione, ricevo acqua, quindi più o meno 5 litri d'ora, mi ha riempito il casco con circa 2 litri di acqua. A salvarti la vita è stato il tuo modo lucido di comportarti nell'emergenza, gli hanno detto alla commissione di inchiesta della NASA che ha indagato sull'incidente. Parmitano ce l'ha fatta grazie alla sua preparazione di pilota dell'aeronautica militare, ammette ora. Domani sarà al santuario di Loreto per portare la foto della Madonna che aveva con sé nello spazio. La Madonna di Loreto mi ha accompagnato in tutta la mia vita professionale, la protettrice degli aviatori e quindi è da quando ero cadetto che questa presenza del divino mi ha accompagnato, me e tutti i miei colleghi. Sono pronto a ripartire, racconta con nostalgia Parmitano, ma ora voglio stare un po' con la mia famiglia e nella mia terra dove trascorrerò il Natale. Si può togliere un siciliano dalla Sicilia ma non la Sicilia dalla Siciliano, quindi è sempre con me, sempre nel mio cuore. Poi l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato, Napolitano, quando ero nello spazio e ho potuto parlare con lui, racconta, il presidente parlava a nome di tutti gli italiani. Ho provato un'emozione forte che resterà per sempre con me.